Un buon pomeriggio, ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie dal web della città, vediamo che cosa ci riserva la serata, lo facciamo cominciando come sempre con un appuntamento musicale, vi segnaliamo allora violoncellando per le serate musicali del conservatorio, una serata dedicata al violoncello dalle 21 al conservatorio Giuseppe Verdi in piazza Bodoni, Musiche di Bach, Castagnoli, Barber, Minetti e The Beatles. Continuiamo con la letteratura, La prima notte solo con te, libro edito da Mondadori, l'autore Arnaldo Colasanti lo presenta questa sera alle 17.30 a Palazzo Chiablese, il libro racconta la storia di una bambina e di un padre, scrittore che la veglia e le scrive una lunga promossa e accorata lettera. Finiamo con il teatro, Etno Tango è giunto alla sua quarta edizione, il tango inteso come stile di vita, i luoghi degli eventi sono tanti, li potete conoscere collegandovi a torinocultura.it e per quest'oggi è tutto, io ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda, vi auguro una buona serata, l'appuntamento è per domani alle ore 17 circa. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!